L'immagine originale, dove c'è la casa di Ringhiera, era così, questa era la sciostra e se guardate l'architettura, in questo caso, l'architettura è abbastanza tenuta E adesso non lo so se entravi da lì o magari entravi direttamente da dietro Il concetto è che è vero, poi quando uno le sa queste cose dice effettivamente è strano che su una via come questa ci sia una casa davanti così bassa che non sembra non c'entrare niente, era un magazzino che si affacciava sul naviglio